Fresco, fresco, di giornata e di assunzioni abbiamo Giampiero. Ci sei, Giampiero? Ci sono, professore, ci sono. Ciao, Giampiero, congratulazioni. Dove sei stato assunto? Professore, sono stato assunto da Accenture, la multinazionale di consulenza numero uno al mondo. Sono stato assunto dalla sede principale a Dublino, in Irlanda. Quindi, nonostante le problematiche del Covid, il lavoro internazionale comunque continua ad andare avanti. Quindi, tra un po' parti a Dublino. In questa foto, si ritratta insieme a me, stavamo a Colchester. Che ricordo hai di Colchester? È stata un'esperienza bellissima, sia a livello di didattica, sia a livello di vita. Perché Master Europei ti permette proprio di crescere. Non dà solamente una formazione accademica, ma permette proprio di aprirsi al mondo del lavoro e soprattutto alla vita. Permette di crescere a 360 gradi. E ti ricordi, Giampiero, quando ci vedemmo qui, facesti il test e riuscisti Giraffa. Poi successivamente hai rifatto il test e sei risultato cane. E questa è stata una importante chiave di lettura per la scelta di lavoro, in quanto tu ne hai avuto due di proposte di lavoro, vero, Giampiero? Sì, sono stato contattato da Accenture e successivamente da Amazon, ma ho preferito scegliere la consulenza, l'ambito della consulenza, perché appunto essendo cane amo la relazione e il team working. Mentre il lavoro con Amazon sarebbe stato un lavoro in smart working, quindi indipendente, tra le quattro mura di casa e quindi una situazione lavorativa non adatta alle mie esigenze, al mio carattere. E secondo me, tu sei curioso di vedere Dublino, ci sei già stato? No, non ci sono mai stato, però sono molto curioso, molto curioso. Noi quando sarà possibile organizziamo anche lo slot a Dublino, dove contiamo di vederti e fare una bella visita ad Accenture. E quindi ti facciamo di cuore le congratulazioni, io sono veramente molto contento con te e anche molto orgoglioso come Università di Bari, Dipartimento Ionico, perché tu sei uno studente del... Dipartimento Ionico di Taranto, che esprime una grossa soddisfazione con te in un'azienda top, perché tu vai ad Accenture e come sappiamo bene io a te vai da un cliente top, che non possiamo nominare, in cui respirerai davvero una cultura aziendale molto dinamica e all'avanguardia. Vero, Gian Piero? Vero, vero, professore, grazie mille. Un flash per tutti i nostri telespettatori, Gian Piero, per dargli coraggio. Allora, io direi che consiglio Master Europei in quanto si può studiare sia l'inglese, sia la materia che viene scelta, ma soprattutto ci si apre proprio al mondo del lavoro e al mondo internazionale. Si buttano giù tanti muri e si riesce a pensare in grande. Ad esempio, questa grandissima multinazionale, io non avrei mai pensato di mandare una candidatura prima di Master Europei, perché ci si sente piccoli prima di un'esperienza del genere. Quindi consiglio di essere positivi, essere motivati e andare sempre avanti, nonostante qualsiasi difficoltà, come ad esempio quella del Covid di adesso, che comunque non ferma il mondo delle grandi aziende. Grande Gian Piero, grande studente del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari. Io ti saluto come...